Cari amici e amiche sono qui per fare la pubblicità ad una prossima serie di tutorial in 25 puntate realizzata da Euroregioni Use in collaborazione con l'avvocato Enrica Maggi del noto studio legale Maggi Brandl-Katolnig di Klagenfurt e con il patrocinio del Consolato Onorario d'Austria per il Friuli Venezia Giulia. Un tutorial che tra pochi giorni verrà distribuito dalla nostra piattaforma euroregionegnews.eu e sui profili social YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn di Euroregioni Use. Il tutorial avrà per titolo Austria No Problem e inaugura la serie di tutorial Prendi Nota che in futuro sarà dedicata a diversi argomenti ma partiamo proprio con l'Austria. Una puntata alla settimana di circa tre minuti, un tutorial in video selfie con sullo sfondo i mitici panorami austriaci ma con in primo piano l'avvocato Enrico Maggi che ci racconterà amichevolmente di quali e quante sono le differenze, le similitudini tra italiani ed austriaci da diversi punti di vista, culturale, economico, sociale, comportamentale. Quello che spesso si racconta degli austriaci che non attraversano mai le strade se non sulle strisce che rispettano i limiti di velocità è una leggenda metropolitana o no? Che sono ossessionati dalla puntualità è leggenda metropolitana o meno? E gli austriaci vandali che calano nei giorni di Pentecoste sulle spiagge friulane sono un campionario rappresentativo dell'Austria o no? Quanto sono diversi e quanto uguali a noi questi austriaci che amano tanto l'Italia e in particolare amano pensare al porto di Trieste e ancora come il loro porto o a Grado o a Lignano come mete preferite per le vacanze? Sono tante le curiosità alle quali l'avvocato Enrico Maggi cercherà di rispondere anche a quelle domande che voi stessi potrete fare. Non mancheranno informazioni più tecniche che introducono alle differenze normative, legislative in vari campi il welfare, la giustizia, il commercio, l'economia e le procedure che è consigliabile seguire per rispettarle queste leggi per non incorrere in dispiaceri magari con l'assistenza di chi le ha studiate e sa come muoversi. L'obiettivo finale è quello di conoscere meglio l'Austria e soprattutto per coloro che hanno deciso di dialogare correttamente con gli austriaci per motivi di lavoro o di impresa o di turismo. L'avvocato Maggi dello studio Maggi Brandl-Katolnig vi dà quindi appuntamento con la prima puntata del tutorial Prendi nota Austria no problem sul sito e sui profili social di Euroregione News. Le puntate rimarranno residenti sui siti di Euroregione News e sul sito dello studio legale Maggi Brandl-Katolnig e potrete rivederle quante volte vorrete. A presto! Grazie a tutti!